Coach Andrea Nicolai, oggi lo possiamo dire, coach in panchina per la prima volta in questa stagione contro la tua Montecatini. Sì, è una partita particolare perché ho allenato tantissimi ragazzi, quasi la metà della squadra di Montecatini. Insomma, sono tanti tifosi, tanta gente, è venuta a vedere anche perché c'era un po' un evento per Montecatini in questa partita. Però al di là di quello, l'importante era la vittoria, i due punti in classifica, una squadra che io reputo tra le prime quattro del campionato, molto completa, molto tosta, sia in difesa che nelle scelte offensive. Partita molto molto difficile oggi, poi noi giochiamo sempre senza Longobardi e con qualche giocatore sempre un po' acciaccato. Quindi abbiamo vinto una partita molto importante nell'economia della stagione e adesso dobbiamo ricaricare le pile perché sabato a Siena sarà un'altra battaglia perché in trasferta è sempre molto difficile vincere. Comunque, in ogni caso, in questo momento siete nei piani alti, Omeni ha vinto, Cecina ha perso. Vincendo a Siena, insomma, la stagione prenderebbe una svolta diversa, anche se stasera la Fiorentina Basket non era in grado di uccidere la partita. Sempre avanti, ma mai siete riusciti a ucciderla. Ma ribadisco, non te catini a tre giocatori che sono, diciamo, top player di questo campionato. Meini, Circosta e Rizzitello sono tra i tre migliori giocatori nel rispettivo ruolo del campo, quindi chiaramente hanno dimostrato la loro qualità. Quindi è una partita molto difficile che abbiamo vinto, è impensabile vincere sempre di tanti punti, soprattutto con squadre così buone. È chiaro che dobbiamo continuare, perché siamo ancora all'inizio della stagione, manca ancora tantissimo. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo un fardello, purtroppo pesante e in classifica, perché le prime sconfitte, le sconfitte avute all'inizio della stagione, negli scontri diretti con Empoli e con Piombino, sono molto pesanti. Grazie.